La luna si leva alle 22.35 e tramonta alle 8.16. La fase è la luna piena. Nato nell'890 in Germania, un ricco deve la sua formazione allo zio, vescovo e principe di Augusta, dove il giovane rientra alla morte del padre dopo l'adolescenza nel monastero di San Gallo, in Svizzera. Nel 908 lo zio lo avvia al sacerdozio e nel suo primo anno da presbitero si reca pellegrino a Roma. Nella città eterna apprende la notizia della morte dello zio. Per 14 anni un ricco rimane in disparte accudendo alle necessità della famiglia, fino a che nel 923 alla morte del vescovo il Tino, la popolazione di Augusta e il re di Germania Enrico I lo designano vescovo. Così per 50 anni un ricco sarà l'insigne custode del cammino spirituale della popolazione e del clero e il suo episcopato sarà caratterizzato dal mirabile spirito di penitenza, generosità e vigilanza. Certe chiacchiere tra amiche sembrano rose e sono ortiche. Certe chiacchiere tra amiche sembrano rose e sono ortiche.